Come è importante rispettare le regole? Il corpo della Polizia Locale di Genova ringrazia la cittadinanza genovese. Vi si chiede però uno sforzo in più. Questo weekend, cortesemente, rimanete a casa. Noi metteremo in campo operatori della Polizia Locale e numerosi volontari della protezione civile ad effettuare i controlli affinché le regole vengano rispettate, cioè quelle di non andare in giro per la città se non per strette necessità.